Buongiorno, perché si sente un odore incredibile, come mai signora? È un odore nauseante, è un odore che due anni noi sopportiamo qua, dell'Inciflex, e noi è due anni che mandiamo email, fax, di tutto comune. Pritura, vigili, carabinieri, tutti ci dicono che abbiamo ragione, però è due anni noi che sopportiamo questo odore nausebondo. Lui dovrebbe mettere un abbattitore, acqua. Questo abbattitore non si sa il perché non si mette, due anni, non un giorno, due anni. Ci sono anche delle famiglie che qui abitano e vivono, ed è giusto rispettare chi c'era prima delle industrie. Prima di mettere una ditta di quel genere che lavora questi disegni sui rulli di gomma, bisognava aspettarsi una cosa del genere e non dargli neanche la possibilità di venire in mezzo alle case. Questo non è stato fatto. Chi ha sbagliato dovrebbe rimediare. Però questa è una zona artigianale, quindi sono previste le attività? No, queste attività non erano mai previste. Questa è una zona, prima era una zona normale, una zona del parco del Ticino, poi è andata come zona artigianale, che come artigianale c'era già qui dalla roba. Poi ci hanno dato una licenza dopo sette anni a noi come zona commerciale. Poi dopo è passato alla zona industriale. La zona industriale devono comprendere quello che ci stava prima e avere rispetto e rispetto ancora delle persone. Noi siamo esasperati, stufi, perché qui non si vive più, tattacca in gola, che sia una cosa in legge o non in legge, ma questa è una cosa insopportabile. Tutti dicono che abbiamo ragione, ma nessuno si muove. Allora adesso abbiamo pensato con Marzo di far venire Canale 5 per vedere se lui riesce a sistemare la cosa, a mettere quello che lui deve mettere e andare tutti in pace, lavorare tutti quanti. Siamo qua tutti che lavoriamo, e parcheggi, e zona artigianale, e noi commerciali. Nessuno abbiamo mai creato problemi, uno sull'altro. Arriva questo, che è una cosa insopportabile. Io avevo letto una dichiarazione dei proprietari che dicevano che comunque disagiava solo un'ora alla settimana. Ma chi l'ha detto un'ora alla settimana? Venga qua e stia qua con noi, che fanno le mezze mattine, le mezze giornate. Va di là dalla Giorgetta a intervistarla. Va di là, va di di qua, e poi sente cosa le dico. Va di dal Crepaldi, che tante volte la moglie deve chiudersi dentro in casa perché non respira più. Ma chi l'ha detto? Buongiorno signora, allora ci dica innanzitutto chi è lei, dove abita e che problema c'è. Allora io abito qua in via processione, sono Giorgetta Vanda e siamo inondati dall'odore. Una puzza tremenda. Anche quando entra in casa poi l'odore non c'è più qua fuori, però in casa rimane, rimane, anche i miei nipotini tossiscono, starnutiscono. È una cosa che non si può andare avanti così. Ma l'ARPA è venuta? Cosa hanno detto quelli dell'ARPA? L'ARPA hanno detto che per loro non è niente, però non vivono qua. A me mi piacerebbe un mezzogiorno, a parte adesso che le finestre sono chiuse e si sente lo stesso. Però un mezzogiorno, quando ci sono le belle giornate, li invito a casa mia a mangiare, a vedere se possono, con quella puzza che c'è. Ma è continua tutti i giorni, tutte le ore? Quasi sempre. Poi ci sono dei giorni che una cosa, come adesso qua. Sì, sì, si sente a distanza. Ecco. Ma che tipo di materiale bruciano? Ma a dire... Lavorano sul bruno e incidono questi disegni di tovagli. Sì, mi sembra la gomma. Perché una volta, i primi tempi, mio marito è andato lì a vedere, gli hanno fatto vedere questa lavorazione, però non si sapeva che c'era questa puzza. non si può resistere. Ci sono dei giorni che anche fino alle 11 di sera è lì. Magari non si sente tanto di là, perché magari l'aria viene di qua. Però, guardi... No, no, non si può resistere. Ma voi avete messo fuori lo striscione? Mio marito li ha messi fuori. Ho capito. Ogni tanto li toglie, poi li mette. Cioè, lui ne vorrebbe mettere ancora, però mi sembra che è inutile. tanto lui fa lo stesso, i cavoni suoi. Vabbè, ma si metterà a posto col tempo, no? Due anni. Due anni. Non lo so. Adesso avevano detto che per... Marzo. Marzo. Dovano mettere a posto. Però... Ce l'ho occhia mia nuova. Fino adesso non... Non si sente niente di nuovo. Adesso come sono entrata qua? E lei si immagini che questa puzza io ce l'ho in casa. In casa? Quando viene l'aria di là. Ha con chiuso le finestre, eh? Ecco. Poi quando non puzza più, le ripeto, in casa rimane sempre. Alle volte stiamo mangiando... Perché tra l'altro c'è anche gli orari, la una, perché noi le mandiamo anche l'email, no? Certo. Ecco. Però... Pensa che magari è la una, così il comune è chiuso. Niente, va sempre avanti. Se ne frega di tutto. Ma chi è che avete chiamato? Eh, io ho fatto, ho preso, tutte le firme di noi qui intorno. Poi sono venuti i vigili, le ho dati, ha detto che le ha mandate in procura. E poi non si sa. Il comune. Il comune, dal sindaco, dall'ecologia, sì, sì, sì. Però tutti dicono, ha detto, ha detto che farà. Che farà. Che farà. Quando lo farà non si sa. Non c'è un termine preciso, quindi che voi sappiate. Ce lo rimanda ogni tre mesi, quattro mesi. Lo facciamo, poi non lo facciamo. Sì, sì, perché io le volte telefono anche in comune e mi risponde l'assessore e mi dice, ma no, aveva promesso che al mese di, prima gennaio, poi febbraio, poi marzo. E via, due anni che va avanti così. Sono due anni che va avanti così. Va bene, grazie. Grazie.